Allora, che rispondiamo? Allora, rispondiamo così. Caro il mio Marco, che tu sicuramente mi stai guardando in questo momento, tante sono le occasioni in cui io ho taciuto, perché adesso non farla passare come se io abbia scoccato la prima freccia dal mio arco volendoti dire questa cosa che ti ho detto. Sono mesi, sono settimane che tu parli di me, che tu mi mandi messaggi, che io ti rispondo e ti dico, Marco, io purtroppo, dato che so che tu di me parli malissimo in giro e non ti rispondo, non ho voglia di avere un rapporto con te. Oltretutto mi metti contro le persone. Ad esempio, ero amico di Elettra, da quando è diventata amica di Marco, non mi ha più voluto vedere. A me queste cose non importano, io me le lascio scivolare addosso. Però questo vittimismo, questa voglia di comunque passare per il cucciolo indifeso, che non sei, perché non lo sei, e non lo sei mai stato e non lo inizierai ad essere adesso. Io, tra l'altro, perché conoscevo i miei polli, prima di partire ho dato a una persona fuori dalla casa degli screenshot in cui si dimostrava proprio questo. C'era proprio una smania quasi spasmodica di voler per forza avere un rapporto con me dopo aver... ma non un no perché ho qualcosa contro di te, ma semplicemente per il fatto che tu giustamente di me puoi dire quello che vuoi. Ma io, come ho detto e come ribadisco, posso scegliere liberamente di non volerti più.